Oggi è il venerdì santo, ad Ispica a Festaro Pacea Cruci, una delle ricorrenze religiose più sentite in città. Dopo due anni Pacea Cruci, Cristo che porta la croce, abbraccia per le vie della città il suo popolo. Già dalle prime ore del mattino i fedeli si sono recati all'antica chiesa della Santissima Annunziata, da dove hanno proseguito alla volta dell'attuale basilica, dove alle 6 c'è stata la solenne apertura delle porte. Alle 11 a Scinnuta del Santissimo Cristo che porta la croce, alle 18 l'uscita del simulacro che percorrerà le principali vie della città. Intorno alle 20.30 l'incontro è il mio 20 settembre con la dolorata di Santa Maria Maggiore. Alle 24 il rientro della processione con i tradizionali giri per le navate della basilica, riposizione del simulacro del Cristo alla croce nella sua nicchia. Sul venerdì santo ascoltiamo le parole del presidente dell'Arci Confraternita della Basilica della Santissima Annunziata, Tommaso Gregni, intervistato dal nostro direttore Piero Giunta. Dopo due anni, oggi venerdì santo, Upaciacruci, Cristo che porta la croce, abbraccia per le vie della città gli ispicesi, quelli che vivono la città e quelli che vivono fuori le mura della città di Ispica, in giro per il mondo, che portano nel cuore e nella mente Upaciacruci. Presidente Tommaso Gregni, attraverso la sua voce chiedo di ripercorrere il sentimento che oggi vive un nunziataro. I nunziatari vivranno questa giornata con i sentimenti profondi di fede, con gli occhi rivolti a quella sacra immagine che veglia per tutto l'anno la sua gente, un popolo ispicese che dalle prime ore dell'alba ha aspettato l'apertura delle porte proprio per cominciare il ringraziamento al Santissimo Cristo alla croce. Sono emozioni forti, tanta gente, ma in maniera particolare gli ispicesi di tutto il mondo, vivono questo periodo intensamente. Finalmente, è proprio il caso di dirlo, dopo due anni di pandemia che ha impedito le processioni, il simulacro del Santissimo Cristo che porta la croce torna per le vie della città a incontrare il suo popolo. È il venerdì santo della rinascita, ma anche della solidarietà. della rinascita dopo l'immane tragedia del coronavirus e della solidarietà per tutti i popoli colpiti dalle guerre, l'Ucraina, la Siria, lo Yemen, eccetera. Per questo la nostra arci confraternita ha pensato quest'anno a celebrazioni che fosse lo specchio del periodo che stiamo vivendo, cercando di contenere nella sobrietà alcuni aspetti collaterali ai riti veri e propri. Così abbiamo contenuto le luminarie, annullato lo spettacolo pirotecnico serale della domenica di Pasqua, mantenendo solo lo stretto necessario. Tengo a precisare che l'arci confraternita della Santissima Annunziata, la domenica di Pasqua, sera, al rientro del risorto, effettuerà un sorteggio di beneficenza, il cui il ricavato sarà devoluto interamente alla popolazione dell'Ucraina. E allora, Presidente Tommaso Cregni, ricordiamo gli appuntamenti di questa giornata per gli spicesi piena di passione che vedono il Cristo che porta la croce per le vie della città. Dopo l'apertura solenne delle porte della Basilica alle 6 del mattino, alle 11 la caduta delle porte e la discesa del Cristo alla croce, alle 18 l'uscita del simulacro, alle 20 e 30 l'incontro con l'addolorata di Santa Maria Maggiore, alle 24 circa il rientro in Basilica con i tradizionali giri e la riposizione nella nicchia. Ringrazio il Presidente dell'Archiconfraternita della Basilica della Santissima Annunziata, Tommaso Cregni, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.